Parco Mascagna, le mamme in protesta, perché? Sì, siamo un comitato del tutto spontaneo, siamo soltanto genitori, vogliamo far sentire la nostra voce perché i bambini, gli adolescenti non lo possono fare, sono le categorie più vulnerabili e stanno colpendo loro. La municipalità ha chiuso questo parco che è l'unica area attrezzata a gioco promettendo lavori per circa un anno, il che significa chiusura di un anno, significa aumentare esponenzialmente la violenza, il disagio dei giovani, la solitudine, la dipendenza dai videogiochi, le scorrerie per strada e fenomeni di bullismo, oltre che violenza di genere. Noi diciamo che il gioco, l'intrattenimento, lo sport, l'aggregazione sana, spontanea, è l'unico antidoto ad una città civile. Loro sono il futuro, non dimentichiamoci che i ragazzi sono il futuro della città.